Il 25 aprile è una data importante della democrazia e della libertà nel nostro paese. Si terrà insieme con l'Unione dei Comuni al cimitero degli inglesi e canadesi, gestito direttamente dal Commonwealth, che è un'associazione internazionale, a cui lo Stato italiano ha affidato quel cimitero di Montecchio e ci sarà per la prima volta la fanfare dei bersaglieri, le frecce tricolori. Questa è una novità grazie all'associazione Redici Combattenti, all'AMP e tutti quelli che hanno collaborato, che saranno presenti e all'associazione perché per noi è una prima volta, ma c'è sempre una prima volta, ma del resto quel cimitero è emblematico di come non toccherebbe mai fare le guerre. Quindi anche, diciamo, quel volo delle frecce tricolori testimonia l'unità nazionale, la libertà, la democrazia. Sarà una cerimonia in due giorni, una giornata al monumento di Tavuglia, nella zona di Tavuglia dove c'è quel carro armato inaugurato dal povero ministro della difesa Andreatta e poi questa deposizione della corona per ricordare le centinaia di morte della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, sarà un evento importante, speriamo che sia al tempo buono ed è due giornate con le scuole Pian del Brusco, l'orchestra della scuola media Pian del Brusco, importanti dal punto di vista della democrazia, della libertà, che non è mai conquistata una volta perduta, è un messaggio di pace contro le tante guerre che esistono ancora nel pianeta.